Due parole anche sulla Roma, a breve dovrebbe esserci anche il colpo Perotti, non è che si è intervenuto un po' troppo in attacco e ancora poca difesa? Sì, anche se poi chiaramente Gervinio, cheppure sarà uno dei migliori fin qui della stagione della Roma, è abbastanza chiaro, è abbastanza evidente che di fronte a un'offerta di quel tipo si stappa la bottiglia di champagne e si festeggia, quindi è chiaro che è stato un bel colpo monetariamente per la Roma, poteva arrivare già in estate diciamo l'addio di Gervinio, è arrivato soltanto adesso. Sì, però in generale mi sembra che la Roma abbia dei problemi da risolvere in difesa, sia per quanto riguarda gli esterni che per quanto riguarda i centrali, quindi sicuramente con tutto rispetto per il Sarau e per Perotti non penso che la Roma con questi due colpi sia una squadra diametralmente diversa, completamente diversa e migliore rispetto a quella di prima. Quindi Spalletti che cosa dirà, cosa direbbe in questa situazione? Vuoi limitazione? No, ma non la so fare, comportamenti, Spalletti è un grande allenatore, secondo me è più un allenatore di costruzione che un allenatore di quelli che arrivano e aggiustano in cinque minuti, proprio perché ha un'idea di calcio molto alta, perché ha una grande qualità di gioco, a Roma l'ha dimostrato e non soltanto a Roma, quindi secondo me nel momento in cui prende gli Spalletti gli devi dare del tempo, non è un aggiustatore, non è Hiddink o Capello o forse anche lo stesso Ancelotti, è un allenatore che ha bisogno di insegnare il suo calcio e chiaramente per insegnare il suo calcio ci vuole un po' di tempo. Molto bene, ciao ragazzi!